Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Kyle Dolph Io sono Kyle e oggi siamo qui riuniti per fare lo speciale di Minecraft a Natale Bene, siamo sempre col nostro White Wing E abbiamo deciso di fare come sempre ad ogni speciale una costruzione a scelta In 15 minuti Ovviamente si può sempre usare il tempo extra che può essere attivato prima della fine dei 15 minuti Se non sapete le regole basta che andate a rivedere il primo video di questa Quick Build Challenge Bene, siamo pronti per iniziare 3 2 1 Ora vi spiego cosa ho intenzione di fare io Ho pensato alla casa di Babbo Natale E' forse facile o forse difficile Non ho mai fatto una costruzione del genere Stavo pensando a dei blocchi di argilla per fare fuori la costruzione A proposito c'è stato un aggiornamento e hanno aggiunto dei cubi che non ho ancora visto purtroppo Dai così è perfetto 2, 3, 4, 5, 6, 6 Anche perchè abbiamo 15 minuti quindi Per questo ho intenzione di abbellire un po' Anche se sto sbagliando visto che va fatto dopo Ma Se non le faccio ora ste cose Ok Va In questo Sto facendo tutto quadrato per ora ma non è questo quello che uscirà Raga Tranquilli Qua Vabbè ci deve stare il vetro ma per ora Facciamo dentro Avevo intenzione di fare un bel effetto dentro Quindi in realtà non verrà visto da fuori Avevo intenzione di fare un bel effetto Avevo intenzione di fare un bel effetto dentro Il tempo extra lo attiviamo anche perchè è uno speciale Non ci sono problemi Ovviamente ricordatevi che pure se non ci sarà un vincitore Voi potete benissimo dire qual è la costruzione che vi è piaciuta di più Ok No 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 Cazzo sono 14 Sono 14 Sono 14 Sono 14 Bene Attivato il tempo extra Anzi due casse visto che fanno luce E gli ignomi E gli ignomi Oh mio dio che cazzo ha fatto E gli ignomi Ciao Grazie a tutti. E niente ragazzi, queste sono le due costruzioni, alla fine avvento la sportività, scusate Kyle, e eccoci anche alla fine, a proposito attiviamo lo stop visto che non lo facciamo mai, anche alla fine di questa avventura ci siamo arrivati. Bene ragazzi, noi vi auguriamo un buon Natale, da Kyle è tutto, anche da White è tutto, saluta White, saluta, 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 ok, no, senab, senab, va bene. Ci vediamo alla prossima, bella!